Ding del Web Pare che l'azienda farmaceutica Pfizer, quelli che hanno inventato il Viagra, abbiano concepito un vaccino contro il coronavirus. Magari non sarà efficace, ma sicuramente avremo tutti dei piselli durissimi. Ding del Web Cortana? Oh, Cortana? Amo! Si chiama Cortana? Alexa, cazzo Cortana! Alexa, come si pronuncia? Pfizer Pfizer Quelli che hanno fatto il vaccino, Psiper Pfizer 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 Pare che l'azienda farmaceutica fa... Fai Porca troia No